Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il TurboStar. Quest'oggi, con quest'ultimo viaggio, terminerà la nostra bella esperienza, al momento, dell'esplorazione delle capitali europee con il TurboStar di Ralph Garage. Oggi, come etapa conclusiva, partiremo da Roma, passeremo per Napoli, saremo di passaggio, scenderemo per la Calabria, andremo in Sicilia e infine ci imbarcheremo poi per raggiungere Lisbona e quindi raggiungere la meta del nostro aerotour. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Thursday with the TurboStar Ralph Garage. Today, we will do the last trip of our scouting, European capital cities, with our beloved Iveco TurboStar by Ralph Garage. Today, we will start our trip from Rome, we will pass to Napoli, this is my province city, we will go down in Calabria, in Sicilia, then we will bring the boat and we will join Lisbon. Salut à tous et bienvenue à notre rendezvous du mardi avec le TurboStar de Ralph Garage. Aujourd'hui, nous allons faire notre dernier voyage avec le TurboStar pour la série de l'Eurotour, l'exploration des capitales européennes. Aujourd'hui, nous allons partir de Rome, nous partirons de la ville de Rome, nous passerons par Napoli, qui c'est la ville de Rome, qui c'est la ville, qui c'est la ville, c'est ma ville, on va descendre en Calabria, on va s'embarquer en Sicilie, et on va rejoindre Lisbonne. On va s'embarquer en Calabria, on va s'embarquer en Calabria, et on va s'embarquer dans la ville de Rome. Andiamo, let's go. Noi ovviamente non seguiremo questa tratta interna ma appunto scenderemo per Napoli Calabria, Palermo e faremo un po' di strada in Spagna Noi faremo la tratta che il navigatore è raccomandato a noi, ma faremo A deviazione della tratta Noi faremo il navigatore Noi faremo il navigatore Renderò omaggio alla città di Napoli e allo stesso tempo insomma In maniera un po' nostalgica per il momento il nostro Eurotour lo metteremo un po' da parte L'appuntamento con l'Eurostar e il parton con il Turbostar ovviamente ci sarà sicuramente L'appuntamento con il mitico Turbostar di Ralph Garage So, I will afford this last trip with a little bit of malancony But we will do our other things with us with our beloved Iveco Turbostar Allora Io vorrei fare una bella foto Ecco, magari una foto in cui si riesce a vedere anche l'insegna Prima di partire per il lungo viaggio Una leggera mano di saturazione E un diamo Io vorrei affronter questa deline parte di questo rato Outro con un po' di malancony perché ho molto attenzione con il Turbo Star di Raff Garage ma sicuramente noi faremo qualcosa con il Turbo Star ci aspettano tre mille chilometri abbiamo percorrere tre mille chilometri noi devono percorrere tre mille chilometri questa è la ultima parte del rafforzamento sarà un po' più lunga per l'hommaggio mater che sia la città di Napoli ma soprattutto l'Italia io vi ho ammaggio la mia città e la mia terra che è Italia ma ogni nazione che ho visitato è stata un'esperienza molto molto attenzione ogni giorno che ho visitato è stato un voyage un'esperienza unica fantastica con il Turbo Star Draft Garage ah 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 e noi intanto abbiamo raggiunto quota 61 milioni di capitale sociale e noi partiamo con il 66 61 milioni di capitale e noi partiamo cosci 3 E' un omaggio fantastico, il Turbostar. E soprattutto colgo l'occasione per ringraziare coloro che mi hanno fatto scoprire questa mod fantastica, fatta da dei modder eccezionali, quelli di Ralph Garage. Grazie. E con la mod a pagamento da 640 cavalli ho avuto anche il piacere di... ...notare come il mezzo fosse diventato molto molto fluido durante la marcia. Infatti non dimenticherò mai quando ho trasportato il trasformatore nell'alta tensione che il mezzo ha rallentato ma ha tenuto costante la velocità di crociera. E' molto felice di buttare il modello di pagamento, il modello di pagamento. E' un'angine con 640 HP. E' un'angine con 640 HP. la piccola Peter. E' un'angine con 640 HP. Solo C'è un'angine con 440 HP molto buonissimo. so i'm very i precede this mod Ralph Garage Ralph Garage it's a warranty of the mods 640 HP de puissance de ce moteur là il l'a il s'est très bien comporté je me rappelle quand j'ai transporté le transformateur d'électricité il leur il rallentissé le camion mais après il tenait constantment la vitesse donc il ne perdait pas beaucoup de de vitesse oui presidentissimo me è colta di sorpresa buon pomeriggio è ben ritrovato questa è la tappa conclusiva al momento dell'euro tour con il turbo star e oggi infatti farò una tratta diversa infatti sono partito da roma e per raggiungere lisbona passerò per napoli poi scenderò per calabria sicilia mi imbarcherò e farò un tratto di strada in spagna per raggiungere portogallo portogallo lisbona e così si conclude diciamo così temporaneamente questo tour come si va innanzitutto e ovviamente complimenti per la live di ieri sera qua tutto bene si prosegue andiamo avanti qua e oggi era il giorno diciamo quello che normalmente chi è appassionato di oro track aspetta e soprattutto gli amanti dei dei camion delle motrici vecchia scuola aspetta che è appunto il turbostar un mezzo italiano che ha fatto la storia aria di servizio per il momento non mi serve quella grazie mille e noi qua proseguiamo cosa porti di bello questa sera dimmi un po' ah rock league lo sai ne ho sentito parlare e quello lì mi pare che con le automobiline si si gioca col pallone se non ricordo male o è qualcosa del genere ok lì mi pare che ma è single player o anche multiplayer perché se non ricordo male dovrebbe essere ok infatti mi ricordavo vagamente perché anche sul canale il canale di Nora24 che saluto anche lei giocava a questo gioco insieme ad altri amici insomma quindi è per questo che ho fatto la domanda perché avevo il dubbio se fosse lo stesso gioco che avevo visto eppure bellino e immagino stai facendo parecchia pratica però devi guidare anche il turbo star qua altrimenti non sai cosa ti perdi ah si scherza però questo turbo star è bello stabile oh là stavo rischiando di alla grande alla grandissima e poi fai vuole divertire no ne ho toccato il camion non lo sapevo si tantissimo mi hai veramente mi hai fatto morire da ridere ma poi con la mitica lancia telma quando ha perso la targa ho detto ma è stato simbatico poi pure fuori strada il turbo star come fa non c'è nessuno che lo sa e io lo so il turbo star come fa caspito è un ottimo risultato ma a prescindere anche uno due sono sono comunque sempre apprezzato l'incoraggiamento è un bel è un bel gruzzoletto caspita e poi quando uno si mette con la pazienza insomma i risultati li raggiunge le macchine nemmeno le macchine riescono a superare il turbo star ah quindi hai raggiunto anche la soglia che ti faceva sbloccare anche che nelle altre icone ottimo sta andando alla grandissima dai ottimo e quali ne eravate ieri sino ma tieni presente anche che è iniziata la settimana lavorativa quindi insomma il primo giorno di lavoro è così 8 spettatori beh io 8 spettatori se facessi 8 spettatori personalmente io parlo per il mio canale insomma sarei veramente felicissimo però insomma 8 non è male per me però ho detto probabilmente anche questo perché poi vedrai che magari il fine settimana le persone sono un po' più libere quindi magari sono più propense a a guardare un po' le live due oh ma è vero sei veramente molto simpatico e colgo anche l'occasione ecco sulla scia del discorso dell'amico fermus volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che stanno facendo crescere il canale con il follow coloro che lasciano i messaggi in chat quando sono online ma soprattutto quando sono in replica in offline e soprattutto a coloro che sostengono il canale con gli abbonamenti e come ha sempre fatto l'amico fernobus con i beats grazie a tutti grazie 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 people like my friend fanbus support channel with the beats thank you so much thank you thank you thank you I would like to thank all those who support the channel who are subscribed to the channel thank you very much thank you merci però dici la verità è un bastione sto turbo star solo che ho paura di danneggiarlo qua prima di arrivare destinazione mi sarei aspettato di impiegarci più tempo invece da roma qui a villa san giovanni ci ho impiegato penso in tempo reale una mezz'oretta ottimo 3000 km beh poi c'è anche la traversata quella lì c'è la tratta in mare quindi dovrebbe essere su strada molto meno ma guarda fanbus rocket dovresti trovare le persone con cui poterlo portare però è bello come gioco è carino ching 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 ok andare dritte può portare a sinistra all'incrocio ok oh nooo nooo il camion è vero che è robusto guarda qui a sinistra a porto ecco qua ecco qua e noi giriamo a sinistra e poi sotto al ponte si gira a destra girate a destra a voltare a destra pom 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 poropo pom 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 poropo rom buongiorno devo imbarcare quest'elicotter qua due biglietti grazie oh si fermano a guardare tutti il turbostar riorientamento ahhh pom 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 Per gli appassionati di Eurotrack ed American Track Simulator, in particolar modo il multiplayer, nell'ultimo aggiornamento che ha rilasciato Trackers MP ha rilasciato una script, un'opzione dal multiplayer che vi permetterà di fare quello che adesso si fa su Virtual Speditor, e cioè quello di selezionare e crearvi un carico personalizzato, quindi città di partenza, carico, città di arrivo, azienda, eccetera, eccetera. Insomma, praticamente hanno ripreso un po' quello che hanno fatto i programmatori di Virtual Speditor. So, I want to inform if you are impassionate by Eurotrack ed American Track, in particolarly in, with the multiplayer, Trackers MP, in the latest released version of the application, they added a kind of Virtual Speditor, so you can create your customers' trip, so you will do your job, so you will never have the problem that Virtual Speditor will not recognize your saving game, so that's a good thing from Trackers MP. Thank you, developers from Trackers MP. Thank you, thank you. For the last version of the Trackers MP, they have integrated a function, function, a function che permette di creare un voyage personalizzato, direttamente, in the game, so you will never have to use Virtual Speditor, you will creare, direttamente, in the game. In the live of Monday, I will show you how it works, how it works, how it works, how it works. This new integration of Trackers MP, live on Friday, I will do a tutorial and I will explain you how it works. So, I will wait you in the Friday live streaming with Eurotrack. And, obviously, in the live of Monday, I will show you how it works, 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 how it works. And, obviously, if you can create carichi personalizzati, senza l'utilizzo di Virtual Speditor, direttamente dal gioco, si potrà usufruire di questa nuova trovata, di questa nuova nuova optional, diciamo così, che hanno messo a disposizione di noi come dire, affezionati del vecchio multiplayer e ci permetterà, quindi, di poter creare carichi e destinazioni personalizzate. a 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 palermo ok questa qua dovrebbe essere quel tratto di strada la a palermo palermo ui io qua devo mettere il gasolio a 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 qua e a eccole la i due distributori tico 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 tacco 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 Grazie. Grazie. Ok, quindi prendiamo la direzione Palermo. Un saluto a tutti gli amici siciliani. Bello quel camper. Lo portiamo a Sanremo. Palermo, stazione di Palermo. Un giorno spero di visitare Palermo. A Palermo. E' qui. Ciao Gigi. E poi c'è il fratello che si chiama Calogero. Gigi è Calogero. E noi dobbiamo andare dritto, quindi teniamoci a destra. La spiaggia. Il porto di Palermo. Sul quale poi noi ci imbarcheremo. E sbarcheremo in Spagna. E poi continueremo il nostro viaggio verso Lisbona. E poi continueremo il nostro viaggio verso l'Espagna. E poi continueremo il nostro viaggio verso l'Espagna. E poi continueremo il nostro viaggio verso l'Espagna. We will do a few roads. A few kilometer rolling in the Spain. Then we will finally join Portugal and Lisbon City. ovviamente mo ci imbarcamo con la nave, parop, scendiamo a Spagna, sbarcamo a Spagna, sbarca a Spagna, Spagna sbarca, poi ci facciamo un bello tratto di strada, cuore, rinda a Spagna, e poi si mangiava a Lisbona, a città di destinazione. Don't worry, if you don't understand that language, this is Neapolitan. Non ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est... j'ai parlé dans la langue napolitane. Quatre langues dans cette live. Oh la la, c'est canal. Perfetto. Valencia. Ok. Ah, meno di... Ora approfitto, visto che ci sono alcune persone in live, vi farò vedere alcune dei punti panoramici presenti sulla mappa dell'Iberia. So, I want to show you that you are in live stream. I will show you the... the view point animation. Easier. This is the first... the first point I checked. when I started the adventure in Spain. Questo è il punto panoramico, che è il primo punto panoramico che ho esplorato durante l'inizio dell'avventura di questa live. E adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. la guardia costiera. La sede della guardia costiera qui. Poi abbiamo tutte le crew per scaricare i diversi container. qui. Il guardia costiera. Il guardia costiera. Il guardia costiera. E le altre macchine. Qui. Qui. E... Queste animazioni... Alcune di questi tipi di animazioni... si trovano anche in alcune delle nuove mappe di American Track. Si. A few of... Viewpoints... Are... Asso... Included in American Track New DLC. New DLC. le point panoramico sono presenti anche su American Track il y a delle DLC che hanno l'animazione allora come ho già fatto devo farmi per forza la rotonda anzi no, ho fatto che scemo, mi sarebbe bastato uscire di qua, ecco qua credevo ci fosse lì la rotatoria invece dopo, ma infatti, terza uscita e devo dire la verità, i fotogrammi qui nella Iberia, nell'ultimo aggiornamento del gioco che hanno fatto i fotogrammi sono aumentati quindi posso vedere che in la ultima update del main game, i framerati non sono così lo, as I saw in the first time that I ran on this map, so they are making making a very good job scia software developper ce que j'ai remarqué c'est que je vois que les frames ne calme pas ils sont plus ou moins constants donc ils ont ce que le développeur de ss software ont fait dans la dernière mise à jour du jeu ils ont fait ils ont fait un très bon travail merci et ovviamente sto notando agi viste che il fotogramma non se fascina assaio primi infatti il fotogramma c'est une à 40 35 invece mo il fotogramma se manté nena à la velocità decente quindi c'è da fanno un applauso saldari c'era grazie ai sviluppatori scs software castano facendo un bello lauro e stanno facendo e vanta studio cana cosa grande tu si no cosa cádome il z mira cosi o cosi credo ma questo è il grande mimmo modugno domenico mo dungno mister volare Domenico Modugno ma c'è una canzone abbastanza conosciuta nel mondo napoletana che più o meno fa così Iamma Iamma Goppi Iammi Iam Iamma Iamma Goppi Iamma Iam Funiculi Funicula Funiculi Funicula Goppi Iamma Iam Funiculi Funicula Ed è una vecchia canzone nella musica classica napoletana poi c'è anche un altro evergreen una super hit che molti conoscete there is a very a kind of evergreen a song that if you hear five notes you will know which song it is il y a un'autre chanson classica napoletana che si e you will hear 5 notes musical you will l'adovine the song which is the song qual è la canzone qual è la canzone voglio c'è stata una canzone napoletana antica classica che si vengono a tutti o semplicemente c'è bastano cinque note musicale allora subito capisciano qual è avrete sapete qual è gustite la canzone e ora provo a facciare un po' ma nato sola più bello in me o sola mia stam frond a te o sola o sola mia stam frond a te stam frond a te e questa è la musica classica napoletana and this is a masterpiece of the classic neapolitan song and this is a a piece musicale very very connu un show d'oeuvre show d'oeuvre d'oeuvre de la music napoletana la classica napoletana ma adesso ritorniamo a noi alicante se con se metro se con se metro 30 division costa mediterranea alicante 30 papa juliet 05 30 papa juliet 05 francisco il comandante hola hola e questo era una 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 registrazione di chiamata sulle radio cb di una famosa stazione della città di alicante che era 30 papa juliet 05 che papa juliet 3 0 p j 0 5 è detta secondo l'alfabeto alfabeto internazionale molto usato appunto nel linguaggio radio so 30 papa juliet 0 0 5 it is cb radio call sign and i was talking about cb radio station in spain in alicante city and this station this cb radio station was one of the most famous station in the international channel calling 27 dot 3 times 5 and the and so on ce que j'ai dit 30 papa juliet 05 c'était un nominatif radio cb d'une station espagnole qui était située dans la ville de alicante et cette station radio cb elle était beaucoup beaucoup entendu dans le canal d'appel international sur la cb 27 point 3 fois 3 3 fois 5 et cette station là elle était très connue pour la registration qu'elle mettait pour faire les appels c'est drôle ça pour moi que j'ai aussi parlé avec cette station là et voilà on a fait un peu de lecture de radio ah j'ai ma papa juliet c'est l'alphabet international mais aussi beaucoup utilisé sur les radios papa juliet c'est p g papa juliet si tu ok per il momento mi sembra tutto regolare at the moment everybody is gonna be all right everybody is gonna be all right polo momo tu va bien quello a cui state assistendo ora è un nuovo format di gioco chiamato soft gaming inventato da me fabrizio di tab logistica mi auguro che sia di vostro gradimento so what are you watching in this moment it's an experimental thing called soft gaming invented by me fabrizio as tab logistica i hope you will enjoy you are enjoying this kind of live streaming i hope you will feel relaxed while watching my live and hearing my voice j'espère que vous êtes en train d'aimer ce nouveau format que je suis en train d'inventer qui s'appelle soft gaming inventé par moi fabrizio du canal j'espère que quand vous regardez mes lives vous vous sentez relaxé et ma voix vous relaxe si c'est mon but vai vai merci beaucoup oh cacchio un aereo un aereo un aereo un aereo un aereo che in un modo di giugna però che ti rilassa quando ti guarda una partita e spera che in un modo di famiglia eppure la voce di insomma va a far rilassare qua devo uscire si usciamo a destra già sono uscito ah ma qui è pomeriggio ecco ciudad real anche io stiamo in spagna giusto tolido a sinistra la rotonda terza uscita a rotatoria giusto il camion dei pompieri saper pompi a destra ok sperando di non badajoz 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 credo la pronuncia sia questa ma qui sono le 3 e 11 ma non ho capito se è giorno se è notte ah no è mattina la prima dritta giusto si il sole si sta alzando ma guarda un po' come sono distratto siudat siudat real siudat ghellal e noi continuiamo il nostro giro il nostro giro giro tondo il nostro giro giro tondo il nostro giro giro tondo casca lo mondo casca la terra tutto giù per terra mettiamo in folle mi ricordo qui di questa casa rovinata e abbandonata e e e e e e e oh qua mi arriva la volta sinistra ok e e giriamo a sinistra nav alpino badajoz 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 non mi chiaro qua porta alle 3 e 16 3 e un quarto ma c'è il sole deve essere un bug per forza badajoz 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 Grazie. 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 Buongiorno. 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 Adesso vedi i fari. Ma qui deve esserci un bug però. 20 e 27 ecco. Ah quella era l'ora di arrivo giusto. Eh dicevo io. Non è possibile. Che sono le 3 di notte. Mi sono confuso. Sono le 20 eh. Sono le 20 e 10 sì. 20 mila chilometri. Infatti alla grandissima. Ciao. Hello. Salut. Ebbene sì. Ebbene sì. Zorita. Ma risparmiamo un po' di carburante qua. Ci mettiamo. Un po' di carburante qua. 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 Ebbene sì. Un po' di carburante qua. Un po' di carburante qua. Un po' di carburante qua. Ebbene sì. Ebbene sì. Un po' di cari di nana. Un po' di carburante qua. Santa Maria di Guadalupe Tring tring lariola pesce fritte baccala Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io così solitamente faccio Insomma mantengo il canale attivo anche Nelle ore notturne Insomma quando sono in non attività Cosa porti di buono domani sera così facciamo un po' di pubblicità al presidentissimo La zappa storta A proposito hai notato qualcosa vicino al tuo nickname qua nella chat Ottimo, nuova mappa Alcun altro Allora ok perfetto Perché oggi ho rivisto un pochettino parte della live di domenica mattina e poi domenica pomeriggio sera E quando ho visto questa cosa Fai un flashback per un attimo ho detto Ma è tutto un déjà vu E infatti Te l'avevo già fatto notare E devi sapere che questo vecchio E devi sapere che questo vecchiarello qua è un po' che scorda real No più che altro è che io Se perdo il filo E non sto concentrato su quello che dico Specialmente quando Dico una cosa in italiano E poi la devo andare a dire in altre Due barra tre lingue E allora È là che È un po' problematica E quindi Tra la concentrazione Come qui su Eurotrack Da tenere La concentrazione in guida E la concentrazione poi Nel Pensare Ciò che Che voglio dire E poi Dirlo in italiano E poi ricordarmi di quello che ho detto E tradurlo in altre tre lingue Diciamo due Nell'ultima lingua che è napoletana Insomma Diventa Belle Complicate E complesse Quindi È per questo che Insomma Faccio queste graffe O le graffe Che dir si voglia Solo che le graffe si mangiano Graffe Cose buone dal monte La mappa che porti stasera Si può fare un po' di spoiler Così giusto per Diciamo così Facciamo così Dimmi se è una mappa Grande Medio grande Piccola O cosa del genere Così almeno Così almeno Ah ok I understand A gigabyte Ah perfetto Quindi stasera stai a riposo In stand by Diciamo così In stand by tattico Adesso Io non so se te l'ho detto Ma Sto giocando a una mappa piccolina Che si chiama Champs de France È piccolina Cioè campi Medio Piccoli E Medio Diciamo così Non Eccessivamente Grandi E mi diverto Perché là Subito faccio Si chiama Champs De France Champs De France È piccolina E mi sto divertendo Perché Quando ti vuoi spassare Pure Un'oretta C'è il campetto piccolino Lo ha Rice Fai quello che ci vuoi fare È bellina E Mi sto divertendo Quando Mi voglio rilassare Con farming C'ho Questa mappa scaricata Con i trattori Diciamo Massimo Medi E Ci faccio Un bel po' di cose L'ho iniziata Da La settimana scorsa L'ho scaricata Dieci giorni fa Più o meno È Bella Simpatica Ovviamente Ho venduto Tutta l'attrezzatura Là Perché C'era Attrezzatura in più Mi sono comprato E mi sono comprato Il Il trattore Il Fiat Che mi pare 180 Non so che E poi La trebbia La trebbia Fiat Agri Autolivellante Insieme alla lama Che ho scaricato Da un Sito Internet Esterno Dove c'è le mod di farming 17 18 19 E là Ho trovato Anche Un piccolo Trattore Frutteto Goldoni Infatti Infatti Mi sa che Se trovo Cioè Se Se mi giro Come dicono In Toscana Lo prendo Il Goldoni È piccolino Mi pare Che è 75 Cavalli 75 80 O 65 75 Insomma È tipo La Fiat Ritmo Per farti capire Con quelle cose Là Peccato Che ne ho trovato Solo uno Di Goldoni Il mio zio Che c'ha Un piccolo Apezzamento Di terra C'ha la moto Zappa Della Goldoni Ma è vecchissima Cioè Io ero piccolo E lui C'è la E già C'è la viva Cioè C'è avrà Meno Più Dell'età Mia Non posso Dire Le mie Età Ma Capisce A me Insomma C'ha Quasi Mezzo Secolo Secondo Mi Poco Ci manca E funziona Ancora Infatti Lui Quel piccolo Pezzettino Di Terreno Ogni tanto Se lo va Lo va Ad arare Anzi Non si dice Arare La Areggiare Se non ricordo Male E si Diverte Si Poi Pianta Un po Di Cosucci Insomma Nell'orticello E Si diverte E sta in pensione C'è la passione Per la campagna Per L'agricoltura Si rilassa E poi fa una cosa Pure Per lui E poi Ovviamente Ogni tanto Porta anche qualcosa Qua Dal giardino E quindi Insomma Apprezza Doppiamente Il prodotto A chilometro Zero Dal Produttore Direttamente Al consumatore Prodotti Genuini Ovviamente Senza Trattamenti Chimici Tutto Fatto Tutto Bio Non so Come fa A fare Ste cose Bio Mia zia C'ha Una pazienza C'ha Il concime Utilizza Quella Delle galline Però A misura Tu mi puoi capire Che più o meno Anche nella tua Grande regione Anzi direi La nostra Grande regione Perché Anch'io Mi sento Anche Io Umbro 50% Umbro E 50% Partenopeo E comunque Caro la zappa storta Ritornando Ad Eurotrack 640 Cavallucci Qua Su questo Turbo Star Sono Qualcosa Di Eccezionale Questa è la Mod Di Ralf Garage Non so Se Ho Messo Mi sa Che ho messo La locandina Nella schermata Della live Forse non si legge Comunque Di Ralf Garage Sta Praticamente La mod Base Del camion E Loro L'hanno Fotografata In 4K E poi Si sono Messo Si sono Messo Di Ralf Ogni Singola Sfumatura Della Della Texture Che sia Gli interni Gli esterni E poi Ho notato Anche Il suono Del motore E E Quello E poi Dopo Dopo Qualche Mesetto Ho acquistato Una moda a pagamento Che l'ho pagata Mi sembra 5 o 6 euro Che mi da Il motore Appunto Da 640 Cavalli I marmittoni Stile americano Che Non so se si vedono No Troppo lontano Ecco Andiamo un po' Ecco Forse si Vabbè Poi Quando arrivo Nel parcheggio Dell'azienda Mi fermo E ti faccio vedere Poi mi dava Il suono Delle marmitte Aperte Ed infine Che il cambio E mi vorrà anche Il cambio Comunque È un pacchetto Di Un bel po' Di cose Metti pure Che hanno fatto Un lavoro Meticoloso Anzi Meticolosissimo E quindi Ho ben pensato Di Sto andando Contromano Ho ben pensato Di Sostenirli Con una moda A pagamento Insomma Che 5 euro Sta mod Varrebbe Almeno Il doppio Per il lavoro Che hanno fatto Solo per la moda Poi ovviamente Sul sito Di Raffa Garage Oltre Alla Alla motrice Singola Ti permette Anche la configurazione Del tandem Quindi Il semi Come si dice Semi Rimorchi E poi Metti Il Il rallato Dietro Diciamolo In gergo Di farming È fatto bene Ci sono Veramente Raffa Garage Mi ha Stupito E infatti Dopo Un paio Di Tre settimane Che Ci ho iniziato A giocare Ho iniziato Anche A Fare Un po' Di pubblicità A loro Così come La Faccio pure Su farming Gli sviluppatori Delle mod italiane Che uno Mi pare Che si chiama Peppe E settantasena Cosa del genere Di cui Ho scaricato Quasi tutte le mod Mi sa O forse Ho tutte le mod Fra cui Il turbo star Sia quello lì Singolo Ecco Bravo Mitico Peppe E Mi sa che Ho tutte le mod sue Scaricate E Quindi Niente I modderi italiani Sono tutti bravi Modders Però sai Essendo puri italiani Sai come si dice Che Ogni scarafone È bella Mamma sui Detto in napoletano Però In questo caso Qua La bravura Dei modderi italiani Non si offendono Gli altri modder Che sono bravissimi Però Sui mezzi Nostrani E poi Portarli Live I mezzi Nostri E c'è tutta un'altra cosa Infatti Il turbo star Non può mancare Né qua E né Tanto meno Su Farming E allora Salutiamo Peppe 978 Non so se Guarderà mai Questa live Comunque Caro Peppe 978 Grazie per il Grande lavoro Che stai facendo Perché Le due mod Sono moddi Altissimo livello Come si dice a Napoli Urwut Ovvero Un qualcosa Di Grandioso La lingua napoletana La lingua napoletana Ha delle parole Che non sono traducibili In italiano Comunque Fatteno Un lavoro Che ho ruoto Ah Non lo sapevo Caspito Allora Quindi Già Ho avuto Diciamo In qualche Modo Un giusto Riconoscimento Al Grande lavoro Che ha fatto Ecco qua Ecco qua Ah ecco Ecco perché Io non sempre Riesco a beccarle Quindi mi sa Che devo fare Il giro Un po' più spesso Il sabato Sera Per vedere Un po' Di mod E niente di meno Da dove siamo partiti Siamo anche ritornati Nella stessa azienda Devo ammettere Che questa esperienza Fatta Con il Turbo Star E' stata Veramente Incredibile Abbiamo Percorso insieme Più di 20.000 Km Abbiamo Fatto anche Qualche piccolo Incidente Strada Facendo In qualche Occasione Mi sa che mi sono Anche ribaltato Però Questo Turbo Star Mi ha dato Soddisfazione Allora Facciamo così Ora ti faccio vedere Anche Le mod Appogamento Ah erano i circhi Ecco Allora Le marmitte Ora ti faccio Sentire il sound Poi I cerchioni Questi qua Non quella cosa Rossa al centro Poi Il motore E questo rumore Senti Senti Che sono Senti Il turbo Senti Il turbo Come scarica C'è Come non si può Apprezzare Un lavoro Fatto Veramente Alla Grandissima Fatto Veramente Bene E mi sa Che non sarà L'ultima volta Che porterò Questo prodotto Mi sa Che mi Ho già pensato A cosa Altro Fare con il turbo Star Del mitico Rough Garage 84 147.000 E abbiamo preso Mi pare Due molte 500 euro Quindi diciamo Che Ci è andata bene Benissimo Allora Il nostro Eurotour A bordo Del mitico Turbo Star Di Ralph Garage Per il momento Termina Qui Questo capitolo Del Esploriamo Le capitali Europee Giunge A termine Abbiamo Percorso Più di 20.000 Km All'inizio Ecco Come ho accennato All'inizio Della live Ho utilizzato La mod Base Del camion Quindi Senza motore Potenziato Dal 640 Cavalli Senza Di scarichi In stile Americano I cerchi In acciaio Il Sound Delle Marmitte Svuotate Poi Se siete Interessati Ad acquistare Eurotrack Simulator 2 A prezzo Scontato Troverete Nella descrizione Del video Di link Dai quali Potrete Acquistare Eurotrack Simulator 2 Scontato E tanti altri Giochi E poi Troverete Altri link Che sono Il link Dove poter Scaricare La mod Base Del Turbo Star Di Ralph Garage Il sito Internet La loro Pagina Facebook E poi I Miei Due Canali Social Che sono Facebook E Instagram Oltre al Canale Twitch Per chi Guarda Questo video Su YouTube Stessa cosa Troverà Tutti i link In descrizione Il video Del Turbo Star È disponibile Su YouTube Il Giovedì So Thank you so much For following This challenge Of Exploring Old European Capital Cities With Mitus Turbo Star Baruff Garage We Run More Than 2200 Kilometres With These Big Beasts In The First Part Of This Challenge I Used The Mod Base Then After A Few Weeks I Decided To Bo The The Mod The Paying Mod That Gives You An Engine With 640 Horse Power The Steel Wheels The Pipes On American Styles And The Open Pipes Sound If You Are If You Want To Buy The ETS 2 And You Want To Download The Mod Base To Take Take Look At The Awesome Work Made By Ralph Garage You Will Find A Few Links In The Videos Description As Well You Will Find My Social Media Links So You Will Find Links Of Ralph Garage 84 Site And Is Facebook Page And Where You Can Buy ETS 2 And Other Games Discounted Not A Rendezvous I Was Forgetting That You Will Find This Video On Youtube On Thursday And You Will Find All The Links In Description As Well In Youtube notre voyage au bord de notre bien-aimé turbo star de raf garage il est terminé nous avons parcourri plus de 22000 plus de 20 000 kilomètres Quand j'ai commencé à utiliser cette mode je suis parti avec la mode basse puis après quelques semaines j'ai préféré acheter la mode à payer qu'elle m'a donné Si vous êtes intéressé à acheter le jeu des Eurotrack similator 2 A prix réduit ou autre jeu vous allez trouver dans la description du vidéo vous allez trouver le lien vous allez trouver aussi le lien pour télécharger la mode basse du turbo star de ralph garage mais vous allez donc trouver le lien pour le site internet Vous allez aussi vous allez trouver le lien pour le lien pour visiter si vous aimerez bien suivre mes canaux sociaux de facebook et instagram Thank you so much for following this challenge this channel I want to say thank you so much for your support while I am online and offline while I am using Thank you so much for your message thank you so much for your messages thank you so much for your support with beats and with the subs I want to thank you so much for your support Je veux remercier tous ceux qui soutiennent le canal parmi les beats et les subs Je vous remercier pour la compagnie de mes lives merci beaucoup pour vos messages Grazie mille Grazie mille a tutti per i vostri messaggi per il vostro supporto canale con i beats Ecco la sub Ecco la sub Grazie per soprattutto per il follow al canale quando sono offline Detto questo Grazie mille a tutti Thank you so much everyone Merci beaucoup à tous Et à la prochaine See you next time Grazie mille a tutti E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti